Mi scusi ma non capisco qual è il problema. L'operazione catastrofe apocalittica è incappata in una massiccia eccedenza di spese. Ormai non rimane altra scelta che ricorrere a misure drastiche. Attenzione, quest'anno il picnic della famiglia malvagia è annullato. Niente corsa coi sacchi. A me sta bene e quella gara mangia crostate? Davvero ridicola. Cinque volte campione, Shigo, alla faccia tua. A dire il velo alla faccia sua. C'è ancora una macchiolina di marmellata di mirtilli, no? Eccola qui. Quella è la mia bella, spirito. E questa gente? Rona è ricco. Ricco qua, appena al 18 del miliardo. Davvero? Forse sono dalla parte sbagliata. Sì. Oh, ma del mio piede. Oh, sembrano professionisti. Attaccate, razza di rambolliti. Il tuo braccio destro ti ha comprato una squadra. Eh, sì. Accidenti, sono davvero dalla parte sbagliata. Permi loro. Almeno Bonnie non si è unita a te. Lei è rimasta fedele al Ron. La ragazza castana, l'ho lasciata andare via. Io preferisco circondare la mia persona di veri amici. Prendi Shigo, per esempio. Fedele, leale. Ehi, dottor Draken, coraggio, voglio i soldi. Nuovo covo malvagio, 34 milioni di dollari. Nuovo cannone laser, 48 milioni di dollari. Operazione catastrofe apocalittica. Un colossale spreco di soldi. E ora ha inizio il regno del dottor Draken. Un colossale spreco di soldi. Shigo, non avrai più l'Islanda. Cugino Eddie. Eddie? Chi è Eddie? La pecora nera della famiglia. Ora sì che sono spaventato. Ehi, cugino, attento a come maneggi la mia pupa. La tua pupa? Sono io il genio malvagio che ha disegnato la gnetta jeep. Già, ma sono io il genio meccanicale che le ha dato la vita. Lascia stare... No! Fermo, lascialo! Sul serio! Ora basta, guido io. Ehi, amica, le pupa non guidano. I maschi lo fanno, sul serio. Punto zero! Si parte! Questa volta guido io, sul serio. Puoi scommettere? Guida lei! Allora stavamo aspettando a te. Senta, ero occupata, d'accordo, perciò sì. Amico, non fare mai arrabbiare una pupa quando è al volante. Fa peggiorare le cose. La sua guida, intendo. Eh, che ho detto di... Ecco dov'è. Sono così felice che non si sia fatto male. Perché se fosse successo qualcosa, non so che avrei fatto. Ma vorrebbe saperlo, vero? Non è così. Che succede, di... di che sta parlando? Eh, ho dimenticato il tuo compleanno. È di questo che si tratta perché ho paura. Ancora qualche modifica e l'acceleratore magneto elettronico sarà... Shigo! Non dirmi che sei ancora arrabbiata. Oh no, oh no, sto solo ammirando il suo piccolo acceleramagneto. Come si chiama questo affare? Si chiama acceleram... Perché mi guardi in quella maniera? Non mi ero mai resa conto del suo colorito blu e della sua deliziosa malvagità. Shigo, ma non hai proprio niente di meglio da fare? Certo, sì che ce l'ho. D'accordo, va bene. È ora di testare l'acceleratore magneto elettronico. Forse potrò raffreddare l'atmosfera supercaricando questo comune condizionatore d'aria. E' strepitoso, ha funzionato meglio di quanto pensassi. Fa davvero freddo, è perfetto per le coccole. Il latte? Mi piace il latte, ma riguardo alle coccole... Passo e chiudo. Perché? Sai perché? Perché mi stai scombussolando, ecco perché. Sta pensando quello che penso io? Questo gelato andrà dritto sui miei fianchi e non potrò più infilarmi una taglia 42? No, sciocchino. Già, chi prendo in giro? Non mi entrerà mai una 42. Stavo pensando che è giunta l'ora della malvagità. Malvagità? In che senso? Del tipo conquistiamo il mondo o del tipo... Drac che dice aia? Del tipo conquistiamo il mondo. Bene, e so esattamente da dove iniziare. I giorni middletoniani! Sento che dovrei dire qualcosa di sarcastico, ma non posso perché lei è così carino. Sì, dunque, il carro del centro spaziale sfoggerà un innocuo laser spettrale, ma con questo lo trasformerò in un raggio di distruzione. Io sarò la sua ragazza. Occhio al premio Shigo. Non c'è tempo per le smancerie. A me piacciono le smancerie. Sì, certo! Che sia come vuoi tu! E vai! Temo che la sua amica sia rimasta bloccata in un irreversibile stato di eccesso di rabbia. Non volevo sentire questo. Spero che non sia arrabbiata con qualcuno, altrimenti... Uff, si mette male! Nessuno può lasciare Ken Possible! Lasciarsi non è certo una cosa facile! Una donna snobbata! L'arma perfetta! Se lei indossa il controllo a umore numero uno, allora... Dov'è finito il secondo? Perché ce n'è un altro? Oh-oh! Draken! Le mie lacrime non ti commuovono? Ah, se le asciughi, questo le sarà d'aiuto. L'annuale fiera e convegno dei super furfanti. Oh-oh! Seminari di scagnozzi, dimostrazioni apocalittiche, perfido snack bar! Shigo, sai che cosa significa? Che si rimpianzerà di addoga a non finire e vomiterà di nuovo su de mento. Quello era l'anno scorso. Shigo, pensi quello che sto pensando io? Che questa volta qui starai pagando? Eh, va bene, dov'è mio... Ogni braccio destro deve conoscere il suo posto, vero? Eh, sì, hai ragione! D'accordo, io vado a controllare i monitor di sicurezza e sai quella tua risetta palvagia? L'adoro! L'adoro! Uh, ecco quello che ci voleva, una lieve motivazione. Già, mi creda, dottor Draken, lei riesce decisamente a spaventarmi. Dici sul serio o sei sarcastica? Non lo capisco. Ehi, ma che succede? Oh, tesoro, stai bene? No, no, perché mi sta abbracciando? Perché hai rotto con Billy. Chi è Billy? Così si fa, fingi di esserti dimenticata di lui. Oh, a meno che tu non l'abbia dimenticato davvero. Questo sarebbe un motivo per andare da un dottore. D'accordo, adesso finiamola. Una giornata al colto bizzarra. Finalmente qualcun altro se ne accorre. Ci troviamo al novantesimo piano sopra una strada molto trafficata. Grazie. 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 Grazie.